Sindaco Francesco Menna, ci troviamo alla Villa Comunale per la riqualificazione del nuovo parco giochi. Un intervento di circa 60.000 euro importante che ci ha consentito di rigenerare questo parco giochi. Naturalmente chiediamo comprensione ai tanti bambini e ai genitori perché sono lavori che possono essere fatti solo d'estate con certe temperature per far sì che il materiale si stabilizzi meglio e riescano meglio le finiture dei lavori. È un ringraziamento di cuore agli assessori, alla giunta, alle ditte, agli uffici che hanno partecipato e anche ai tanti bambini che già vedo numerosi usufruire di questi bellissimi giochi di nuova generazione.